Il Ponte Pasquale Il Ponte Pasquale Buona Pasqua, avviso che siamo reduci dal Ponte Pasquale, parliamo proprio di questo e soprattutto della Pasquetta, tempo che è stato clemente nel pomeriggio di ieri per il concerto di Renzo Arbore dell'orchestra italiana che ha richiamato in piazza sull'istante persone, con Alghero che si conferma una delle mete privilegiate proprio per le festività pasquali. Come il primo test in vista della stagione estiva non c'è male, Alghero, come da tradizione ha risposto presente, la Rivera del Corallo, d'altronde da anni è una delle mete preferite per trascorrere il Ponte Pasquale, addetta anche di Renzo Arbore, il protagonista, assieme all'orchestra italiana del concerto di ieri. Che bel regalo trascorrere la Pasquetta ad Alghero ha messo lo showman italiano forse più conosciuto al mondo. In piazza Suolis c'erano soprattutto persone che la giovinezza l'hanno passata da tempo ma che ieri, grazie al suo concerto, si sono rituffate in quegli anni. Un'intera generazione, cresciuta con quelli della notte e altri programmi di successo ideati da Arbore, ma anche con successi come Reginella, brano che ieri ha aperto lo spettacolo, passando per Mala Notte No. Un concerto che coniuga il nuovo e l'antico suono di Napoli, aveva preannunciato l'artista dimostrando, ancora una volta, 81 anni di saper intrattenere una piazza. Un pubblico che spesso ha accompagnato Arbore, la sua numerosa orchestra e che ha fatto in tempo a godersi lo spettacolo di quasi tre ore, prima che un violento acquazzone si abbattesse sulla riviera del Corallo. Tutto sommato, alla fine, anche il tempo è stato clemente in questo ponte pasquale, vie del centro affollate, alberghi e b&b che hanno accolto i turisti, provenienti in gran parte da altri centri dell'isola, ma anche i primi stranieri, bar e ristoranti che hanno lavorato a pieno regime. Gli amanti del mare hanno dovuto rimandare il primo bagno di stagione, magari ci sarà tempo per i prossimi ponti a iniziare da quelli del 25 aprile e del primo maggio. E con i riti della domenica di Pasqua invece si è conclusa la Samana Santa all'Alghè, giorni di fede e tradizione che hanno visto la partecipazione di numerosi fedeli, ma anche cittadini e turisti, curiosi di osservare funzioni e processioni. Il colore rosso dei farolze e delle lanterne del centro cittadino e sette di rosso passione hanno fatto da cornice a questi momenti. Anche quest'anno Alghero ha celebrato la sua Samana Santa. Ultimo dei partecipati riti è stato l'ancontra tra Gesù Risorto e la Madonna, che accompagnati da due distinte processioni la mattina della domenica di Pasqua si sono incontrate sui bastioni Cristoforo Colombo, all'angolo con la via Carlo Alberto. Davvero numerosi i fedeli che hanno atteso i due cortei con i due simulacri, gli spari a salve dell'Associazione Gruppo Cacciatori e Armeria. Tanda ha dato ancora più enfasi ad un momento davvero intenso, ovvero la gioia per la resurrezione del Cristo Gesù. Accompagnata dalle note della banda musicale da Lerci, la grande processione, riunita, ha poi percorso le vie cittadine. Presente il Vescovo, naturalmente Monsignor Mauro Maria Morfino, e dietro la statua della Madonna tutte le autorità civili e militari, con a capo il sindaco Bruno e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Una volta compiuto l'intero tragitto, la processione è giunta in cattedrale, dove alle 10.30 è stata celebrata la Santa Messa. Alle 12 poi rientro nella Chiesa della Misericordia. Anche quest'anno i riti organizzati dalla Diocesi del Gherobose, insieme alla Confraternità della Misericordia, e naturalmente all'amministrazione comunale Fondazione Alghero, sono stati molto partecipati. Il rito del dascravamento resta il più atteso, visto il fascino e la tradizione della liberazione dalla croce e la deposizione del Cristo nel suo prezioso Brassol. Ma anche le processioni dei misteri, il martedì e della visita eucaristica, il giovedì, vedono ogni anno tanti algheresi e non solo prendere parte ai vari momenti che scandiscono la settimana di passione. Uno su tutti la messa in cena domini, seguita dalla lavanda dei piedi. Numerosi anche i cori, sia algheresi che provenienti dai comuni limitrofi, che animano i vari riti a fare da cornice al tutto il colore rosso passione che veste la città in occasione dei giorni che precedono la Pasqua. Chiudiamo la pagina dedicata alle festività pasquali, passiamo alla politica regionale perché quello di oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il completamento della giunta a Solinas. Il governatore deve ancora sciogliere gli ultimi nodi, soprattutto quelli legati alla presenza delle donne nell'esecutivo, ma nel pomeriggio o più tardi domattina Solinas dovrebbe ufficializzare gli assessori mancanti. All'agricoltura potrebbe andare un esponente leghista, ma possibile salti d'aria in Zaina, in quel caso al suo posto andrebbe Maria Assunta Argiolas. All'urbanistica dovrebbe andare qui di Cosanna del Pisdaz, alla cultura Andrea Bianca Redu dell'Udc, mentre ai lavori pubblici potrebbe andare l'inquadrato al Pietrino Foi salgherese, dei riformatori, coordinatore regionale tra l'altro del partito, anche per una questione di riequilibrio territoriale con il nord-ovest che chiede una forte rappresentanza in giunta. Ci fermiamo adesso per una prima pausa pubblicitaria. Tra poco. Questa mattina porta a terra la conferenza stampa di presentazione del Nautic Event, in programma dal 1 al 4 maggio prossimi sulla rivera del Corallo, dedicato al mondo del mare. Alla presentazione c'erano i partner dell'iniziativa, la Camera di Commercio di Sassari, l'Astonautica Provinciale di Sassari, il Comune con l'Assessore Selva, la Fondazione Alghero, il Consorzio del Porto di Alghero. Sentiamo a tal proposito Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto, Ital Senes, presidente dell'Astonautica Provinciale, Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio di Sassari. Il 1 maggio verrà inaugurata la Nautica 20 365, la prima edizione di Alghero, è una manifestazione di carattere nautico in generale, non di barche, ma specialmente sull'utilizzo del mare, sull'ecologia, sulla difesa dell'ambiente e così via. Quindi è una manifestazione molto importante che la Camera di Commercio ha volato organizzare qui ad Alghero, per cui io credo che sarà una manifestazione importantissima e che ci auguriamo che sia la prima di una serie di manifestazioni che saranno. Io sono Italo Senes, presidente dell'Astonautica Nord Sardegna, che è stata indicata come capofila tra il partenariato che ha voluto questo evento sulla nautica. L'abbiamo chiamato Nautic Event Alghero 2019 e 315 gradi, perché vogliamo indicare il nord-ovest attraverso questa sigla. Noi siamo molto contenti di averla fatta ad Alghero, cerchiamo di unire la nautica col territorio interno attraverso l'agroalimentare di qualità, che vogliamo cercare di unire, nonostante sembri una via di sviluppo lontana, alla nautica, in quanto l'agroalimentare di qualità sarà l'oggetto della cambusa dei diportisti. È un ritorno sicuramente gradito anche perché sarà integrata questa volta ancora di più col territorio, con la sua storia, con le sue tradizioni, ma anche con quella che è la filiera dell'agroalimentare. Sarà un sistema per ampliare quella che è la nostra stagione turistica marino-balneare, che fa Alghero e rende Alghero famosa in tutto il mondo. Con l'onatica non facciamo altro che aggiungere la famosa ciliegina sulla torta. Ritorna una filiera importante dell'economia che consente ai molti di vivere il mare, anche in condizioni atmosferiche, magari non ideali per fare il bagno. Ricordiamo che appunto Vela, Caesurf e quant'altro hanno bisogno proprio di vento e anche di giornate come può essere quella di oggi. Regalare ad Alghero questo ritorno significa anche regalarlo però a tutto il territorio e soprattutto alle imprese e all'economia. Rinasce il campo sportivo della borgata di Maristella. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori programmati dal competente Servizio Verde e Manutenzioni del Comune che hanno riguardato il rifacimento del terreno, il drenaggio, l'impianto di irrigazione e il successivo livellamento cui seguirà la definitiva semina dal prossimo mese di maggio compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Il campo ritornerà a risplendere con l'erbetta rigogliosa. Come ricorderete le condizioni del campo della borgata furono al centro di un duro scontro tra l'amministrazione e l'ex dirigenza del Maristella, società calcistica nel frattempo scomparsa che aveva più riprese e chiesto interventi per la sistemazione della struttura sportiva. Appelli di fatto rimasti inascoltati nei mesi scorsi con la società costretta a sostenere spese per allenarsi e giocare su altri campi sin a gettare la spugna poi la scorsa estate. Da Portaterra invece si parla di rinnovata attenzione rivolta a tutti gli impianti comunali su cui sono in corso procedure di riqualificazione. In quest'ottica si legge ancora nella nota del Comune nelle scorse settimane è stata presentata alle numerose associazioni sportive del territorio la nuova piattaforma online per la gestione tecnico-amministrativa del settore sport. E sul tema intanto è critico il consigliere comunale di Noi con Alghero, Emiliano Piras. Una scarsa attenzione alla programmazione delle politiche legate allo sport. Questo è quello che raccontano questi cinque anni di amministrazione Bruno, scelte poco accorte che hanno avuto esclusivamente l'effetto di deteriorare i rapporti con le società sportive, le quali con i bandi per le concessioni degli impianti si è chiesto di sostituirsi al Comune nella modernamento e gestione delle strutture sportive con i fondi ridotti che si ritrovano nei loro bilanci. Tutto ciò prosegue Piras perché non si ha un'idea chiara di quello che lo sport rappresenta come valore di crescita sociale, testimoniato anche dal fatto che l'assessorato che si deve occupare di questo delicato settore è sempre stato considerato di marginale importanza. Un'amministrazione che crede nell'alto valore dello sport deve invece investire proprie risorse e ricercare fondi anche a livello europeo che gli permettono di mettere a norma gli impianti esistenti e finalmente realizzare il progetto che giace in chissà quali cassetti della cittadella dello sport a Maria Pia. Un progetto ambizioso che però porterebbe nuovo lustro e stimoli all'ambiente sportivo algherese senza sottovalutare le ricadute economiche che avrebbe legato a tutto ciò che attorno allo sport ruota. Non serve oggi un vago e timido tentativo di fine mandato di creare la cosiddetta piattaforma telematica dello sport e conclude il consigliere comunale di centrodestra. Il tempo è abbondantemente scaduto. Ci fermiamo ancora per un piccolo break. domani 24 aprile al Qualte alle 18 la sala conferenze ospiterà la presentazione del libro di Doriana Caria Io ti aspetto. Storie di una mamma, di una famiglia e dello spettro autistico. Editrice Il Cuscire dialogherà con l'autrice Giuliana Trampana. Doriana Caria racconta una storia vera, la storia del suo bambino e della loro famiglia dal momento in cui nella loro casa entra la diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Un racconto intimo, sincero ma anche ironico e sempre pieno di speranza. È una storia dove la vita quotidiana accompagnata da incontri con persone speciali, dove gli ostacoli burocratici sono affrontati e superati da una forza che solo una mamma può avere, dove le piccole conquiste diventano grandi traguardi. E invece, per quanto riguarda la giornata di oggi, Tots Junts per San Giordi è lo slogan sotto cui quest'anno si presentano unite le differenti attività affiancate dall'ufficio di Alghero della Generalità di Catalunia per celebrare appunto quest'oggi, ma anche i giorni successivi che riassume la filosofia con la quale diverse realtà culturali della città intervono celebrare nel 2019 il Dia del Libra della Rosa. Anche quest'anno la Libreria Labirinto, membro dal 2011 della Ciascia del Librerias Accreditaras della Generalitat, l'ufficio di Alghero del governo della Catalunia, hanno realizzato una nuova pubblicazione in algherese, rivolta ai più piccini, curata da Eleonora Cattogno e tradotta in algherese da Carla Valentino. Questo pomeriggio, alle 17.30, nella sala mosaico del Museo archeologico, sarà presentato infatti il libro San Giordi all'Alghea, la raserca del DRAC. Il libretto sarà distribuito gratuitamente sia nel corso della serata che presso la Libreria Labirinto Mondadori di Via Carlo Alberto nei giorni successivi. Per il mese di aprile e per il mese di maggio, l'autrice sarà impegnata per la presentazione del libro nelle scuole primarie della città. Comunque tante le associazioni culturali cittadine che hanno aderito alle celebrazioni di San Giordi e che stanno realizzando diversi appuntamenti in città dedicati alla promozione della lingua e cultura catarana. Il programma dettagliato è visibile online oppure all'ufficio turistico o presso la libreria Labirinto Mondadori di Via Carlo Alberto. E con la cultura chiudiamo l'edizione odiana del nostro telegiornale che torna ovviamente domani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.